che mi hai detto che sei questo come funziona simbolo di un santo rappresentazione non è un simbolo vero e proprio era ogni apostolo ha un animale come simbolo si e questo era il simbolo di un apostolo che io non ricordo forse il santo maso non ricordo esattamente uno degli evangelisti non ricordo